Come ho già detto, a noi serve tutto quello che ci fa danno. I gemelli corazzati! I gemelli corazzati! Sì! I gemelli corazzati! Il nuovo boss! I nuovi boss! I gemelli corazzati! Oh mio Dio! Benvenuti o bentornati qui sul mio canale YouTube per una nuova partita di Pro Galactic Survivor. Innanzitutto volevo ringraziarvi per il supporto che state dando al canale. Grazie mille a tutti. E se non lo avete ancora fatto, vi inviterei a lasciare un mi piace e ad abbonarvi al canale per avere altri contenuti di questo genere. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Oggi signori andiamo a giocare una partita con l'ingegnere in pericolo 4 nella mappa ramo-cavo con l'ingegnere in specialità addetto alla manutenzione con le torrette. Abbiamo anche una nuova torretta che vi farò vedere nella partita e siamo riusciti a trovare i due gemelli che sono spuntati dopo il nuovo update. Quindi, bando alle ciance, buona visione signori! Quindi, signori, let's go! Oggi andiamo con l'ingegnere in classe torrette perché sono sicuro che potremmo riuscire a fare un build di torrette senza faticare troppo per questo livello che è a livello 4. Non è facilissimo livello 4. I nemici fanno parecchi danni e quindi dovremo stare attenti a non prendere troppi danni all'inizio riuscire a trovare subito il più... Oh, probabilità di critico... Velocità di scavo. Il più velocemente dovremmo trovare la torretta elettrica assolutamente che è la torretta secondo me più forte del gioco la torretta elettrica e vediamo dai vediamo dai come procederà Let's go! Io vorrei andare a prendermi anche sto fiorellino qua così ne abbiamo già 4 di 6 Uh, danni, 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 danni Va bene Via, 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 via Oh, qua prendiamo danni 17 danni fanno quelli lì che volano Oh, questo non l'ho neanche visto Noi tanto non si vedono neanche Qua ci prendiamo un po' di vita Va bene Proviamo ad andare a fare anche di qua con la pancia col pancione Bravi Bene Uh, è arrivata anche la capsula nel frattempo e non sono neanche stato attento alla mappa Bisogna stare un po' attenti alla mappa Perché è arrivata anche la capsula? Dai, 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 dai Qua, attenzione Qua li facciamo esplodere Perfetto La capsula è lì Vorrei provare a sbloccarla per andare a sconfiggere l'elita il prima possibile Il problema di un build con le torrette è che all'inizio si fa molta fatica Purtroppo le torrette non sponano velocemente Ci mettono un bel po' Per sponare Bene La torretta fotovoltaica Quella che ci serviva Quella che voleva assolutamente Oh mio dio Abbiamo tantissima roccia tra l'altro da scavare Via, 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 via Ah, abbiamo tantissima roccia da scavare E danno della torretta assolutamente Attenzione Oh, qua ci serve un funghetto Riusciamo a prenderlo? Sì Sì Siamo a 5 di 6 Ci manca solamente un funghetto Vedi quanti punti che abbiamo per strada adesso Velocità di ricarica assolutamente Bene Adesso potremo provare a tornare indietro Andare a prenderci i punti che abbiamo lasciato In giro E abbiamo già il boss Andiamo ad abbattere Velocità di ricarica assolutamente Oh, attenzione 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 Non dobbiamo prendere troppi dai Devo stare un po' più attento Durata La prenderei Visto che Mi aumenta la durata Potenza Assolutamente Assolutamente Vediamo di prenderci tutti i punti Almeno di arrivare a livello 15 Velocità di ricarica Assolutamente anche La velocità di ricarica Mi sembra che il giro che stiamo facendo Sta anche funzionando Bene Più una torretta assolutamente Oh, 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 no Non voglio sconfiggere ancora il boss Voglio fare un altro giretto E velocità di ricarica Anche se velocità di movimento Sarebbe stata utile Perché ci può sempre servire La velocità di movimento Oh, mio Dio Ma li stiamo abbattendo Che ha un piacere Che è veramente un pre Un pleasure Potenza Livello 14 Bene Il repulsore sismico Signori Una nuova torretta Una nuova torretta Il repulsore sismico Repulsore sismico Che Fa danni cinetico Va bene Abbiamo due armi tipo elettrico Un repulsore sismico Tipo cinetico Non l'ho mai usato È una Oh, oh, un bambino Andiamo a prenderci la La capsula Andiamocene via Eh Qua girerei Per andare a vedere Se riesco a prendermi Un po' di danno È salute massima 50 La prendiamo Non posso dire di no Dai Dacci qualcosa di buono Hm 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 Spremmo di danno E velocità di ricarica Che non è malissimo Una velocità di ricarica Quando si hanno delle torrette Probabilità di critico E danno critico Va bene, va bene Adesso ce ne andiamo Perché è stato un buon Primo stage Ehm Prendiamoci Portiamoci adesso Magari Danni Prendiamo tutto quello Che fa danni Il repulsore sismico La nuova abilità La nuova torretta Molto bene Molto bene signori Il primo stage è andato Molto molto Non abbiamo preso Tutti i fiori Hm Vabbè Proprio così Tanto bene non è andato Oh bene Al plasma La torretta spara Di tipo elettrico E ora andiamo a prendermi Questo qua Così abbiamo Due torrette Di tipo elettrico E repulsore Non so se ci sia Un upgrade Per il Per il repulsore In modo tale Che ce lo trasformi In danno elettrico Non ne sono sicuro Oro 550 Non ce la faremo più Assolutamente 550 Dovevo prendere Tutto l'oro Della mappa E ne abbiamo preso Troppo poco All'inizio Quindi non ce la facciamo Però vorrei finire Almeno il livello Almeno il livello Se lo vorrei fare Ci guardiamo Questo bel repulsore Sismico Però Non si sa mai Forse riusciamo Anche a fare Dobbiamo prendere Adesso Praticamente Più di 100 Di oro Per Per stage Praticamente Oh attenzione Attenzione Che fanno danni Fanno parecchi danni Ah ah Mi sono incastrato Oh mio Dimo Fanno veramente Tanti danni Va bene È arrivata la capsula Andiamo a sbloccarla Ah 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 Mi sono incastrato Oh mi sono incastrato Oh mio Dio Oh mio Dio La capsula è quasi libera Quindi la liberiamo del tutto Bene Esplodi per piacere Grazie Però non prendere Danni stupidi Armatura Ma sapete che un po' di armatura La prenderei Anche se è solo 6 La prenderei Bene Andiamo adesso Dall'altra parte Della mappa Per vedere cosa Si può trovare Se si può trovare Qualcosa di utile Non dimenticando Di prenderci tutti i punti Danno assolutamente Attenzione Un altro funguito Nove di dodici Dieci di dodici Oh 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 E' quando c'è incastrato Poi bisogna andare Assolutamente Bisogna scappare via 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 Mi sono quasi incastrato E' pericoloso sto livello 97 di vita tra l'altro Abbiamo già veramente pochissima vita Abbiamo quasi Abbiamo meno della metà della vita adesso 107 Sarebbe bello prendere l'upgrade L'artefatto Che ci aiuta A rigenerare la vita Quello sarebbe un bel artefatto Qua prendiamoci questi qua Va bene E' se arriva il pretoriano Dai abbattimi sto elite Il pretoriano è sempre un po' Sembra un po' bastardo il pretoriano Ah 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 Qua prendo Oh mio dio Qua prendo una valanga di danni E' danno o danno da effetto Prendiamo danno da effetto Bene Sono riuscito a prendere quasi tutto l'oro possibile Prendiamoci punti No l'oro non riusciamo a farlo Prendiamoci punti piuttosto Armatura la prendiamo Qui siamo un po' più safe con l'armatura Cosa Ah ah 46 d'anima fatto Oh di 3 Pini 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 Facciamo un altro giro Mi sento abbastanza forte da fare Da poter fare un altro giro Dai prendemi tutti sti punti qua Quelli Grandi Bene 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 E' sto vivendo piano piano Andiamo ad uccidere il predatore prima che muoia e non riusciamo a prendere la capsula. Sì, sì, sì. Opa là. Va bene, andiamo uccidere il predatore adesso. Andiamo ad uccidere il predatore. Vieni, vieni, predatore, vieni. Vieni qua. Oh, morto. Perfetto, rigenerazione. Assolutamente. Assolutamente. E la terza torretta. Sì, la prendiamo di fuoco. Chi se ne frega se di fuoco è una terza torretta. È una quarta torretta, scusate. Io prenderei anche sti punti qua e ce ne andiamo direttamente verso la capsula. Non è andata mai l'opera. Lo stage, eh? Ho avuto anche stage peggiori, devo dire. Via. Velociata di ricarica, assolutamente. Della torretta più importante. Oh, no, leggendario. Non posso prenderlo perché non ho abbastanza. Ne servono 38. Velociata di movimento la prendiamo. Prendiamo velocità di ricarica. E, 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 e. Ah, speravo nell'alto overclock. No, ok. Velocità di ricarica 3, di ricarica, le 2, arrientate, le 3 esploderanno. Esploderanno, se. Rock and stone, signori, rock and stone. Girerei. L'arma di 2, non posso prenderla. Non posso, beh... Non posso prendere niente di quello che potrebbe servire. Un po' di vita la prenderei. Giriamo. E prendiamoci la velocità di ricarica Va bene abbiamo preso 4 upgrade Piuttosto non quelli leggendari Purtroppo Purtroppo non abbiamo preso Upgrade leggendari E Orm ne servirebbe adesso 430 Forget about it Forget about it Prendiamo un po' i nitra va Li abbiamo raccolto poco Prima Bene Funghetto 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 Dai 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 Si le torrette Le torrette funzionano molto bene Via 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 L'or l'abbiamo preso Qua ci sono due funghetti che voglio assolutamente prendermi Prendendo anche un paio di danni Ma non mi interessa Bene Siamo in arrivo Prendiamoci anche questa vita qua Bene Qua c'è ancora un po' di ricarica di vita Molto good Uh stanno andando giù molto bene Stanno andando molto bene Prendiamo questo Prendiamo anche questo qua Tanto gli è esploso qualcosa Ovviamente le mie torrette sono esplose Oh 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 Attenzione Arrivando un altro sciame Può si riesce a restare qua Eh ma arriva l'elite Non posso restare qua purtroppo Oh mio dio Esploso di tutto Una bella calamita ci potrebbe servire come adesso Una bella calamita Qua c'è un altro funghetto Tac Un altro funghetto in fondo alla mappa molto dangerous Ma va bene Attenzione Attenzione Passiamo attraverso Sì 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 ce la facciamo Bene Anche qua Bene Tac 11 Opala No non ci riusciamo a passare attraverso Siamo troppo Io andrei a prendermi questi qua di tipo elettrico Faccio un altro funghetto Dai 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 Bene Abbiamo completato almeno i funghetti Adesso andrei a prendermi tutto questo oro qua Uh no Dovevamo sbloccarci da torre La capsula non sono stato attento Sono poco concentrato oggi signori Poco concentrato Poco concentrato Concentrazione signori Concentrazione ci serve sto gioco Via E purtroppo il Il pretoriano sta per morire purtroppo Sta andando giù troppo velocemente A me servono punti A me servono assolutamente punti Devo tornare indietro a prendere i punti che ho lasciato per strada Qua ho lasciato punti per strada Qua ne ho lasciate una ballanga per strada Guardate che roba 35% in più di danni Li prenderei Bene Andrei a prendermi Un po' di danni Che se ne frega Del radio di raccolta Bene Oh oh Ci passiamo attraverso Sì Velocità di ricarica E Un più un raggio Più un raggio Sì Più un raggio Abbiamo due raggi Tre raggi adesso Bene Adesso proviamo a ingabbiarle un pochettino Lo stadio di ricarica E visto che abbiamo un raggio in più Sì Prenderebbe lo stadio di ricarica della nostra Della nostra torretta qua Oh no Il pretoriano sta per morire Dobbiamo assolutamente Andare a A prendere La capsula Andiamo direttamente alla capsula adesso Guadagno PE Lo prenderei Così saremo molto più velocemente di livello Resta capsula Ed in alto Va bene Oh 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 Sta per morire Le torrette scavano i muri circostanti Questo lo prenderei È morto purtroppo Anche Non riusciamo a farci attraverso No R Sappiamo a prendere la torretta La capsula Dai 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 24 secondi dovremmo farcela teoricamente dovremmo farcela si si la capsula è qua praticamente eh anello di fuoco guadagni PE io prenderei questo qua guadagni PE ogni volta che subiamo danno come subisco tanto danno 13 secondi 10 va bene eh facciamoci questo in modo tale da sbloccarci bene una tua retta in più bene una tua retta in più let's go questo è stato un buono stage signori è stato un buonissimo stage mi prenderei penetrazione potenza ah no ce la faccio quindi girerei eh rato di fuoco di fuoco giriamo probabilità di critico del di tipo elettrico si lo prendiamo giriamo e vediamo se siamo appena oh ancora probabilità di critico di tipo elettrico di nuovo per la seconda volta probabilità di critico di tipo elettrico dove lo vedo qua qua c'è solo 20% c'era qualche parte probabilità di critico 30% probabilità di critico bene 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 30% di probabilità di critico è molto good è molto good siamo in uno stage 4 di 5 molto bene molto bene dobbiamo andare a raccogliere dobbiamo farla morchite che bello sti qua che mi scavano la roccia madonna che utile che sai signori grazie che mi scavate le rocce mi scavate le rocce grazie almeno prendiamoci un paio di queste cose qua ad anni penso che non siano messe bene però vedete che scavando le rocce ci aiutano anche a prendere l'oro il nitro queste cose qua e non è proprio bad l'upgrade un po' di vita bene oppala via 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 non voglio non voglio assolutamente perdere nuove lite nuove lite nuove lite nuove lite dai 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 bacchiamo si 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 sta andando mi sta andando giù sei incastrato praticamente da solo eh ancora prendiamo questa di ricarica dai 40 di oro chi è che prende 40 me però è pochissimo no no io prenderei questo qua è durata durata è molto good oh mio dio via 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 si schiamo un po' un po' rischio un po' rischio oh mio dio esplosini tutto esplosini tutto esplosini tutto morphite in realtà prendiamo tutta la morphite intanto che le nostre torrette qua ma stanno distruggendo tutte le nostre torrette eh eh danni assolutamente oh mio dio oh mio dio che distruzione totale signori che distruzione totale facciamo questo qua magari riusciamo a prenderci il terzo upgrade qua vorrei tanto finirmi la mortita almeno mi prendo un paio di punti oh 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 tu scappare devo scappare devo scappare devo scappare via 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 devo ricaricarci un po' la vita via 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 oh devo ricaricarci un po' la vita signori siamo riusciti a farla mortita questo è buono oh 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 riusciamo a schivarli si velocità di ricarica la prenderei oh mio dio quanta quanta vita che abbiamo perso solamente se ogni tanto si ha si ha quel momento lì dove tutto viaggia bene e a un certo punto succede una strozzata del genere che ci si incastra da qualche parte che magari si pensa ah siamo troppo OP e tac tac e dopo succede intanto è arrivato anche il Matera velocità di ricarica assolutamente bene eh ratio di fuoco a sto punto ci portiamo l'arma di tipo elettrico un po' più alziamo un po' oh mio dio sta andando giù troppo velocemente per i miei gusti il boss io devo andare a prendermi un paio di punti ancora prendiamoci questo qua per andare a vedere se riusciamo a prenderci il primo upgrade della nuova torretta stiamo qua nelle vicinanze della capsula ah palanga di danni potenza potenza più 35% di potenza più 3 torrette più 3 torrette assolutamente 15% di danni bene proviamo a prendere oh siamo al al quarto stage si assolutamente al quarto stage e siamo già al 47esimo livello le linee diventano più forti una calamita una calamita bene 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 oh mio dio quanti punti il primo upgrade più una torretta assolutamente assolutamente velocità di ricarica e giriamo una volta potenza ma si potenza e adesso andiamo a sconfiggere l'elite che siamo messe troppo bene adesso e prenderà anche la la capsula ce la farò prendere la capsula io vorrei far oh sta e adesso stanno stanno diventando troppo forti non cercai di andare a prendere la capsula dai 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 dalla cazzo la 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 cazzo il sito un pochettino uff mio dio l'esco un pochettino trovare nitra non mi potrà servire a un aumento di livello troppo tardi cerchiamo il nitra e andiamocene via adesso o dobbiamo andare dall'altra parte via oh 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 qua bisogna fare un po' di un po' di zigo zago bene Va bene Adesso ce ne andiamo via Visto che è un livello Oh 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 Ah Fatto male Oh via 5 secondi Bene signori Bene Bene leggendario Sì assolutamente Durata la prenderei Andiamo a prenderci No andiamo a girare Bene Verso tutte le costruzioni Rila Condotto Rilascia raggi elettrici Verso tutte le costruzioni vicine Oh più 3 torrette Più 3 torrette Sì assolutamente E quindi Giriamo ancora una volta Per vedere se siamo Oh di tipo elettrico Assolutamente Danni E Let's go signori Let's Go Ultimo livello Ultimo livello Non abbiamo più Tanti upgrade A disposizione Purtroppo Va bene comunque Siamo messi bene Quello che dovevamo fare L'abbiamo fatto Quindi adesso ci sarà Un po' da puntellare Un po' le cose Tra l'altro Se guardate sotto Le Le nostre Armi Si possono vedere Anche quanti Upgrade Si sono presi Per le armi Bello Bel featuring Oh mio dio Non abbiamo Così tanta vita Dobbiamo stare attenti qua Quindi andiamocene via Soprattutto da Da questi posti qua Da questi posti qua Andiamo a prenderci un po' di nitra Che posti può servire Chi lo sa Quando arriva la capsula Chi lo sa Dobbiamo assolutamente Di caricarci la vita Prima che arrivi Il boss Sperando Di non trovare il boss Ma di trovare I due boss Quello sarebbe bello Riuscire a trovare I due boss Quello sarebbe Veramente bello I gemelli Che sono usciti Con il nuovo Con il nuovo Update Speriamo di trovare Non sarebbe malissimo Stando il primo Sta andando Sta andando giù Anche abbastanza bene Via 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 Stiamo prendendo troppi danni Stiamo prendendo troppi danni Oro Perfetto La capsula La capsula Andiamo a prenderci la capsula Sì 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 Assolutamente Andiamo a prenderci La capsula Assolutamente Faccio un po' di Un po' di heal Perfetto 215 di 380 Oh Mi sono bloccato Il primo è morto Di tipo elettrico E adesso andrei direttamente A prendere Tutto quello che fa danni Che tanto Penso che abbiamo a disposizione Ancora 3 upgrade Non penso più di 3 upgrade C'è stato C'è un nemico Che è scappato da noi Da noi praticamente Dobbiamo prendere la capsula E qua in alto A destra Oh qua c'è un po' di oro Vediamo che artefatto Artefatto del critico Mi potrebbe servire È l'unico artefatto Che mi potrebbe servire Dai 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 Scavatemi tutto Grazie Abbiamo fatto un po' Una barriera Con le nostre Le nostre torrette Guadagni PE Sono tutti e tre Non good Non good Andrei forse a prendermi Guadagni PE Ma si dai Quando sto desci dando Tutti e tre Non sono molto good Va bene Adesso andiamo Verso il basso Hop hop Vogliamo prendere Tutti i punti che Abbiamo lasciati indietro Prima Un po' di danno Da effetto Assolutamente Come ho già detto A noi serve tutto Quello che ci fa danno I gemelli corazzati I gemelli corazzati Sì I gemelli corazzati Il nuovo boss I nuovi boss I gemelli corazzati Oh mio dio Non li ho mai fatti Non li ho mai fatti Gemelli corazzati Ah Oh questo mi ha rushato Completamente eh Da dove spunti tra l'altro Oh 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 Attenzione Attenzione Uh questo mi rusha Bene 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 Attenzione ai gemelli corazzati Ah i gemelli corazzati Attenzione Attenzione Oh Speriamo di farci Stiamo tirando giù Anche abbastanza bene Bisogna dire Eh armatura Danni Rilancia tutto Eh potenza Potevo rilanciare Potevo rilanciare ancora un pochettino Sperando in un upgrade Di tipo leggendario Così Stando prendendo danni Tutti e due Sì Abbastanza bene Attenzione Attenzione Scappiamo 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 Dai 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 Adesso giriamo Finché non troviamo Un buon upgrade 10% rilanciamo Potenza rilanciamo 25% di potenza Sì 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 Adesso proviamo Adesso proviamo A fare una cosa del genere Andiamo A A Ingabbiarli un pochettino Anche se ho troppo poca vita Per fare queste cose qua Per fare queste stronzate qua Ah Intanto è morto Qualcos'altro Qualcosa di grande Oh 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 Attenzione Attenzione Stanno andando giù Signori eh Stanno andando giù Stanno andando giù Va bene Eh Velocità di ricarica Velocità di ricarica Di questa qua Oh Ho più di nuovo danni Proviamo da cerchiarli Dai proviamo da cerchiarli Gemelli corazzati Che stanno andando giù Stanno andando giù Andiamo a provare Da cerchiarli Ah 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 Sto prendendo danni Ma sto resistendo Sto resistendo Ah Oh mio dio Da dove vengono Tutti questi qua Oh 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 Le palle infuocate Le palle infuocate Attenzione Ah Devo prendere un po' di danni Dai che stanno andando giù Io li porto a spasso signori Io vado a portarli a spasso Oh 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 Devo andare a portarli a spasso signori Ah Dai 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 che stanno andando giù Dai che stanno andando giù Non ho Non ho molta vita Oh mio dio Sono veramente incazzati Sono incazzatissimi Sono incazzatissimi Oh Attenzione Qua bisogna schivare Schiva 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 Ok il primo è già È quasi andato Il primo è quasi andato Il primo è quasi andato Dai 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 Sì mi sembra che il primo sia andato Non c'è più Mi sembra che non ci sia più Mi sembra che non ci sia più Il primo l'abbiamo fatto Le idee diventano più potenti Ma ce l'abbiamo fatta a farne uno Oh no Sì è andato Potenza Oh Oh mio dio Oh mio dio Sì Sì I gemelli corazzati Siamo riusciti a farli Siamo riusciti a farli Adesso andiamocene via Dov'è la capsula? Dall'altra parte Logicamente dall'altra parte della mappa Non bisogna rischiare Ci fanno parecchi danni se ci beccano Via 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 Sì Vediamo se ci sono questi punti qua Bene Belli I gemelli corazzati Belli In questa puntata siamo riusciti a trovare Tutto Un nuovo arma sbloccata Difrattatore Difrattore di frammenti Siamo riusciti a trovare tutti I nuovi Le novità che sono uscite nel update Quindi Bene 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 Vediamo le nostre armi Torrete alla recensione Logicamente fotovoltaica Però La sentinella Cractoa Non male Non male Signori Grazie mille per aver guardato l'episodio Se volete potete cliccare Al centro di questo video E vi abbonate al mio canale Grazie a tutti a quelli che hanno seguito il mio canale E questo video E alla prossima Ciao